Intanto è circolata una tabella da parte del commissario Alcuri che noi abbiamo, tra virgolette, contestato, ma in senso costruttivo, perché i numeri presenti erano numeri abbondantemente insufficienti rispetto alle categorie che lo stesso governo ci aveva indicato come prioritarie nella catena della vaccinazione. La tabella parlava di poco più di 50.000 persone da vaccinare nella prima fase, cioè nel mese a cavallo tra gennaio e febbraio. Le categorie a cui si fa riferimento in realtà in Toscana sono oltre 90.000 e quindi abbiamo scritto una lettera al commissario Alcuri per correggere questa tabella e confidiamo che nelle prossime ore arrivi la risposta e il primo blocco di vaccinazioni sia definito nelle oltre 90.000 unità che riguardano il comparto socio-sanitario nelle diverse articolazioni e gli ospiti delle RSA più il volontariato che fa riferimento al sistema del 118. Questo è il primo blocco di vaccinazioni che avverrà con il vaccino Pfizer. Questo è il primo step nella seconda metà di gennaio, così ci comunica il governo e poi a distanza di 19-23 giorni la seconda dose di vaccino perché ci sia l'efficacia piena dello stesso.